Al Comune dell'Aquila si prova a scongiurare la crisi. A minacciarla è stata Forza Italia che chiede a gran voce un confronto con il sindaco Pierluigi Biondi che però non sembra in agenda. In mezzo c'è il senatore di Fratelli d'Italia Guido Liris, chiamato a mediare, che ha già incontrato il vice coordinatore di Forza Italia Giorgio Di Matteis e che a giorni dovrebbe parlare con il sindaco. Ci sono appuntamenti importanti e nel centrodestra una crisi al Comune dell'Aquila sinceramente non agevolerebbe il lavoro. Liris di questo è convinto. Il centrodestra in Italia sta facendo la differenza, sta dando dei messaggi di credibilità, di solidità e l'Aquila non fa differenza. C'è un'amministrazione comunale che funziona, un sindaco che funziona, ci sono degli equilibri probabilmente da registrare. Ieri sono stato cercato da Forza Italia e il mio compito da persona di partito, con un ruolo di partito, è quello di provare a trovare degli equilibri e delle mediazioni. Ieri mattina sono andato ad ascoltare Forza Italia per ascoltare le richieste, così come si fa in politica. Ho fatto riferimento anche a tutta una serie di situazioni che hanno portato a questo tipo di emergenza o di richiesta da parte di Forza Italia. Le richieste chiaramente sono di una maggiore rappresentanza in giunta, verificheremo anche con il sindaco, il quale a dispetto di quello che dicono in molti c'è un'affinità assoluta, soprattutto nel modo di concepire la politica e l'amministrazione del Comune dell'Aquila, andiamo a verificare quali sono le condizioni, se ci sono le condizioni per trovare un equilibrio e per scongiurare una crisi della quale non c'è assolutamente bisogno nel centrodestra aquilano e regionale. I mal di pancia in realtà ci sono da luglio, quando l'assessore alla ricostruzione Roberto Tinari ha lasciato Forza Italia per approdare nell'Udc, lasciando il partito di fatto fuori dall'Aggiunta Biondi e con un solo componente in Consiglio Comunale, Maria Luisa Ianni. Nei giorni successivi la risposta di Forza Italia, sia il consigliere D'Angelo che il presidente del Consiglio Comunale Sant'Angelo hanno ufficializzato il loro ingresso negli azzurri, mentre sarebbe pure imminente quello dell'assessore Turzini e dei consiglieri Santella e Coccetta. Nuovi equilibri, per questo Forza Italia formalmente ha chiesto audizione al sindaco, ma è avvenuta anche per tracciare un bilancio di quanto fatto e di quanto si sta facendo. L'out-out è chiaro ormai, il sindaco per loro sfugge dal confronto ed è inaccettabile, ci regoleremo di conseguenza, è la minaccia.